sei immortale e io sto rifornendo di medikit che ti sta riparando no guarda stai una bomba vai 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 questo stiamo bene spero spero però vedo già spari siamo io e la mia lag a proteggere ti vai ma come ok come te vai eeeh la mattana di cosorella ancora non vedo brutta stavamo andando tanto bene che brutto mamma mia guarda quanti ascoli eeeh carro nooo nooo riparazione 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 va dietro martini il te metterato guardate ste troie che si mettono qua dietro tutte nascoste nooo 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 aiii 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 che urletti etero valeria no sai che cosa mi sono a farparino destra sinistra aiii aiii che coglioni però ogni tanto ti vedo lì a terra ahi c'è spugli come i concchi del cazzo ma sono negli anni questo e questo è il problema ma dove stanno questi madonna ma lei quanto stai a chiacchierare quanto stai a urla aiii mamma mia se l'ho preso l'aereo bravo via va battuto ciao ciao metti suuuu suuuu emil emil su e su c dove andate emil su elfo su elfo su elfo su elfo te abbattiamo le palme vanno a far fuci dio vanno a far fuci dio vanno a far fuci dio di questa mappa sono salita io sto portando sei persone bene così che meraviglia questa cosa dai siamo in tre ragazze diretti dietro ma io non posso raggiungerlo arrivo un carro carico i perforanti mi metto oh carro carro nemico dove oddio quanto lontano aspetta che ti riparo non vedo nulla dove sei ok ah che botta tutta da sinistra c'ho la torretta andata c'è una niente raga ma qua ma qua c'è la katana ma quello è un carro? marty eh girati eh oggetta raga dentro al bunker a destra ah 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 e basta con sti fumogeni raga ma era un fumogeno cazzo che ne avete sprati duemila in un litro si però basta fumogeni non vedo niente 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 che non vedo niente non vedo niente non vedo niente Grazie a tutti